e vediamo oh, ahi si soparece una notificazione ciao ragazzi ciao car dica dica non gioca addio vado a letto a giocare ok addio vado a letto a giocare ok Michele Micheleino come state? Micheleino 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 fuori classe di a Michele e le cose abbiamo comprato io sto bene che? io sto bene spera è che sta valendo una cosa neanche forse mi fa prendere stasera che? sa si salita tanto se lo prendi domani o oggi non farà tanta differenza quindi tranquilla chi è? che è? che è? ehm Matteo si vola ma Matteo una cuenta ciao ciao Ciao, buonas. Chi si apunta? Chi si une? Oh, toast. Hai toast. Ma Matteo, se ti diciamo che devi venire su Discord, e hai Discord, vieni su Discord. È vero. Perché oggi non potevamo fare niente. Tu non vieni a parlare su Discord e noi non sappiamo organizzarci, perciò... Ciao, Sassi. Come va? Tutto bene? Egittio? Toast! Tostino! Tostarello! Frank dice bene, Sara, la faccio a nostra casa. Guarda cosa dice Doc. Sai cosa ti dico io? Che se non fai il bravo qui, visto che è casa mia grande, mi prendo Sara e la faccio diventare la mia seconda... come si chiama? Minecraftina. Minecraftina. Moglie. Un harem! C'è la casa grossa, fatta bene, ragazze. Chiunque di voi vuole avere una vita modesta su Minecraft in 3500 qua? Hi, Johnny. Welcome. Ho paura per il volo di domani. Che volo? Dove voli? E poi, soprattutto, che frasi di sconnesse mi scrivi nei messaggi dei commenti? Ma Doc! Io ci sa detta. Lo dice ridendo? Sì, è mia, è mia, è mia, è mia, è mia. Matteo di Lorenzo, d'ora con l'unico? Non l'unico di, non lo so. Toast for breakfast. Toast, I think you have a new challenge, eh? Sì, sì. Che ti passa, Carl? Pensativo. Per l'America. All'America, vola. All'America. E quanto tempo sta in l'America? In l'America, lontana? No, Doc, se non sai che succede, vero? Lo dice. Lo dice Bang. Sai che ti amo? Caricato! Caricato! Oddio mio! Strife? The Strife? Strife, hi! Hello? Buon'è! Perché io ho l'idea che The Strife è... Ehm... Cosa cazzo hai fatto? Perché io ho sempre l'idea che The Strife è tedesco? Eh, non lo so. Non è tedesco. Eh? Buon per lui. Ma perché è The Strife? Anche Stassi forse prende domani Minecraft. Boom! Reaction! Paracallo! Reaction! Che mi manca? Domani arriva le soldi che mi mancano! Matteo arriva tra 5 minuti? Questa è la vera. Domani mi arriva... Ok. Eh... Chicos! Seconda partita... Un partito... Desperso di questo... Che vamos a impiassare con la lobby nuova. Guarda Sareta, se quella è la ragione, sicuro che la sfrutterai perché ti posso dire che non sembra che passi di moda per loro. Non sembra che sia passi di moda per voi il Minecraft, il veloce, o che passerà veloce di moda. Vedrai il video di stasera cosa farò vedere? Tu, 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 da parte di Clau. Che passa Clau? Tu, 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 tu. Ah, questo è tu, 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 tu. Eh, eh, ti devi mettere in modo musicale, eh? Oh, stia. In maiuscole. Sì, Strife. Perché stiamo usando l'OBS, l'OBS Studio, e il microfono è diverso. Sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Sì, Dani. Yes. Ok. Allora, Mine. Mine, Mine. Minecraft. Maledetta droga di Minecraft. Ti entra nel mindset e nel membrane. Se Doc mi minaccia. Io chiamo i giapponesi. Di rubarti chiamo a delle persone esperte che hanno gessuto molte case. Facciamo scegliere le donne. Hola, Kelin. 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 En serio. Ha sido un monton che non la veo, eh? Oh, and why did you guys do a new Discord? Perché, per te lo mas seguro. Cosa? Il nuovo Discord. Il strife, abbiamo fatto un nuovo server, perché vogliamo farlo in modo più corretto possibile, dal principio, e abbiamo realizzato alcuni paesi. Quindi vogliamo farlo più sicuro e più privato di prima. Quindi, anche se stai benvenuti ogni volta. Si, si. Nostro è molto bene, Kelin. Qui in un po' in Statoone. Che, ultimamente, ci stiamo anche variando un po' in gioco. Però bene. Come sempre, qui. Che non possiamo lasciare un po' in gioco, già sai. Però, Kelin, non ci stiamo un po' in gioco... Però, in serio, questo è in serio con Minecraft. Quindi, pare se è una locura. Non è cucato a Minecraft, non c'è anni, non c'è anni. E ora... E reazione? Oh, qui, per favore, dì in inglese che stiamo mangiando, per quello siamo un po' mosse. Sorry guys, we're just having a little snack. This is why we're not talking so much, but we don't want to suffer with hunger in the middle of the stream. Yeah, in the live stream. So we do before. Eh, la ultima, this is the last, the toast. The last in normal and we pass in private. Don't worry. Yeah, so this is Minecraft, that's is yeah, really, that's cloutier, that's the head. Mmh. Yeah, this is the last one. E quindi, quindi, quindi? E quando, quando, quando? Sassi, no, non sto leggendo. Sto mangiando, Sassi? Delle patatine! Sì, e quando farai la reaction, me l'ha formato bene. E reaction, reaction, reaction. E quando, quando, quando le fai? Dili che sto sempre meglio e può essere che... Può essere... Io sono l'imprevisto, caro Sassi. Quando meno te lo aspetti può scoprire una reaction? Reaction, reaction. Ciao, Yuri. Yuri? Hola, Dennis. Bienvenido otra vez. Dennis, Dennis. Intentamos hacer los más... Esperiamo, che domani se denien. Los más amenudo posible. Dele patatine. Le patatine. Perché ci hanno detto che se le sponsorizziamo regano Magra Francesca. Che cosa? Le patatine. Ah, ma magari. Come scocarla? Magari. Ah, magari. Ah, l'ha detto bene. Solo dopo che comina il tono. Oh, grande Kate. Grande Kate. Perché la sua fame sta... No, ho una dignità con le patatine Marce e non le mangio. Sei su serio? No. Tanto su serio no. Acqua. 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 Io dovrei fare come è storto ma non troppo. Yeah! Mi passi l'acqua, per favore? Io sono... Cioè... Solo per romperti le palle. Dai, calmati. Mamma! Chico, sei terminato di comere, eh? Guys, I'm finished to eat my fà... pacciatine! My fà... Hello, baby! Hello, baby! Chi è? Hello, baby? Cheke! Cheke! Hello, baby! Yellow, baby! Cheke, cheke! Cheke, che è la testa? Patatine gamer family Contengono solo olio di palma E arrivo dall'alto, Katie mia Sarò il tuo elicottero Sarò il tuo elicottero Piripipidipiripidi Piripipidi Piripipidi PassSp娘 adesso Ostra Para non romper le costumbre Ipo e іρα Olio di Doc Contiene 30% di olio di doc E 60% di olio di palma Ah, patatine. Come te lo dovevo dire che vuol dire patatine? Patatine gamer family. Vai, esci. Oh mio Dio, sono l'english, l'english, qui. Ciao Mimic. No, no, sei non l'english, l'unica, l'unica. Mimic? Scusate, ho questo problema in questo momento. Oh, grazie. Turn the microphone away from me, please. Doc, sei più facile da sbattare. Lo so, lo so, ma a me mi diverte. Questa è stata per te. Mi diverte farmi sbattare. Lost Prime. Lo fa per voi, così vi sentite meglio. Quindi, facciamo una partita privata. Questa è quasi over. Di che paese sono? Chi? Tu, io. Di che paese sono? Io sono italiano. Con la S. Io sono alemano. Alemanas. Devo cambiare tuo canale a uomo patatine. Uomo patatine! Credo che devi. Prince, right up. Hey, there is my last prince. Oops. My friend code was in the description. It's in the description. Watch out. The description. No? Our friend code is... Yeah. That's what he's saying. Sorry. Sorry. It will be over in a second. Yeah. Vai, gioca, Jen. Description. Aspetta, aspetta! No, io... 30.000 euro abbiamo... Yeah, where is your boy madness? Where is he? Abbiamo speso 60.000 euro per fare una ruota. 36.000 euro per fare una capriola. Oh, God. Basta, Jen. Basta. Cosa esce? Non ce la faccio. Yes, Lost. You are a spectator for... Dili, per ovvi motivi... Socioeconomici. E ultimo. Yeah, Lost Prince. You will have to wait because you entered the last. Turf War. Turf War. Mischio Molusco. Me lo mischi, Moluschio. E chi più aspetta? Eh, gli ultimi due. Frank e Prince. Ma come è unto, sto controller? Eh, capisci perché mi splatta la giovane fuori classe? Mamma mia. Dai, togli sto microfono. Tra poco mangio i pancakes di mia mamma con... Oh, con la Nutella. Madre mia. Buono, buono. Oh, God. Basta, Jen. Non posso parlare così. Can me and Prince be together next round, this toast asking? Oh, no. È meno unto di prima, però. È sempre unto. Non scivola. Jess, ora guarda come sono vestita. Vediamo Sara. Giovanni, Giovanni. Sei dark. Fuori classe. Dark Sara. Ma non abbiamo neanche fatto una prova. Eh no. Perché? Perché? Cosa? Io... Forma di patatine. Che fai? Sara, sei una modella. Reaction woman. Oh. Tu dici? Eh, mi può stare in aria questa cosa? Una domanda sempre mi son fatta. Perché sono così bazza? Perché? Mangiati quella bomba! Invitate tutti le vostre amiche! Tutte le vostre sorelle! Bye, Mimic! Bye! Thank you very much! Mimic! Maybe we see tomorrow in one hour, normal hour. Yeah. A much... practical timetable. Lo trovi nelle patatine. Sono morta! You never answer my invitation when you play Minecraft. The part of the Strive. Never? What's your name? The Strive. Eh, ma dili che adesso stiamo costruendo solo il mondo degli Igodi. Ah, yeah, by the way... Degli i veterani stanno costruendo il mondo. Right now they're just building the world. Okay, the world, the city of the veteran Igodi. So, this is why right now only Igodi have access. Sì, ma dili che stiamo tentando di capire come organizzare il live per divertirci tutti insieme, sono nuovi. By the way, we are... Oh, sorry guys. We are, though, trying to understand how we could bring Minecraft to the stream. So, if you have any idea, because we want to try to play all together more. Allora... Allora... Eh, nessuno. Ho lasciato il like. Eh, vtigodi. Ma eh... Non... Non mi sembra che è entrato. Cioè, non lo so. però dì che quando entra li facciamo vedere il mondo però è meglio che aspetta sì dobbiamo finire stasera facciamo un video questa mattina facciamo un video un video della città? sì, solo un po' era uguale a Doc? ah sì? è questo suo hábito? Carl, perché hai vuelto? ah sì, è chiaro stai portando l'avigliamento Sara di Igo di adesso proprio Carl, dovresti averte quedato con i dupli oh, Programmer, buona notte, ci vediamo domani ciao, Programmer, ProGamer grazie infinitamente e anche a Dennis che si è fuori da un momento 4 minuti 4 minuti non posso più mamma sì, basta solo tu riesci a avere queste malattie così potenti un singhiozzo super somico non basta vestirsi in nero e più di quello 3 giorni Splatoon e 3 giorni Minecraft no se fosse tutto così facile tu hai fuori una altra vez no, Carl adesso tu hai che pensare hai che pensare altra vez il codice esatto domani a giovedì ho le prove invalsi e sto in ansia invalsi? ma cos'è invalsi? capisco che sono uno dopo l'altro ma basta vedi un po' d'acqua non lo so no dai why frank and prince? why not? why not toast? sono le prove dell'elementari ah non lo conosco non lo conosco dai dai frank dai dai weeee bufettino mio vieni con me chi è chi è nanana qui non ha anche frank prince fanta fanta tosht frank 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 ah della scusa delle medie sei diventato minecraft dipendente ma ti sembra cos'è sto minecraft? minecraft dai io ti posso confermare che un pochino un pochino un pochino un pochino un pochino poco 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 che andiamo a vedere qua Omar 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 vieni Omar quanto è bello vieni Omar vieni Omar hello Enmad e Erma non l'avevamo giocato ieri aspettuno doc canta uno un due tre quattro cinque sei madness everybody was waiting ok no not everybody but all the english speaking people were waiting for you and we Enmad hello my favorite bufu b a u f u bufu 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 ho detto bene bufu ho fatto bene la spelling si b u f u b i no no u b u f u costruisci una ruota e scrivi in microsoft di un fergiano ruota con quello che riesce a fare live favorite bufu of course i am doing today we are so good good i have this strange thing whose name i don't know since the beginning of the stream and walk her away this one you hear it ha pire o mare quanto è bello fa puso madna guarda che si fanno qua basta Prince Madness Frank dai cambio pire o mare quanto è bello pirtro uspira santa sentimi ma questo buffo questo buffo l'occhino ha levato i pugis dog faceva po' Oh, povere mia sorella! Tranquillo, vanta! Pucidog, 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 pucidog... Streffel, laffel, 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 laffel... Pucidog, pucidog... Ma la live di Minecraft? Ratti? Mi sembra di aver letto Ratti? Dove? Hello? Oh, splatter Frank and Toast! Questo! Questo è il Carla che vogliamo! Hi! Hello! Hi! Come si leggia? Ma la live di Minecraft? Ratti, ciao! Iniziamo a salutare il piccolo strazzetto! Con un ciao ti cambia la vita! Hai capito? And finally, last but not least... Che mi asfalta? Due secondi! Mi stanno cambiando come loccos! Basta! Non sembra un pochettino al beatbox! Tu? Sai farlo io o no? Preferisco non fare quelle che non so... Dove mi preoccupare di Minecraft se non è la mia finestra! Io sono un pochettino al beatbox! Per sicuro no? Elman? Mangio il pancake di mamma con Nutella sopra! Sassi, vorrei staccarti tanto quello di tenere le manine e mangiare il tuo plum cake! Scusa Cate se io cedevo quasi sempre a te! Si chiedono scuse! Si chiedono scuse! Si chiedono scuse! Basta! E' veramente troppo forte! Mangio i pancake di mia mamma ancora! Eh ma io non l'ho letto sai! Eh? Entrerai nella prossima battaglia! No no! Sorry guys! We are make a mistake! Just make a mistake! Sorry guys! Quattro sette sopra ogni cosa! Non so usare... No? No, Yuri! Veramente non mangio tante patatine! E' che è uscito questo tormentone delle patatine con una Igo di... come si chiama? Igo di Superfaiga? Igo di Superfaiga? Questo tormentone... Password? Quale è il password? Hai il password? H H H H H H H H 7 7 7 7 7 Cosa perché? Hai il password? 7 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 Clap Leggess! Perchè perchè? Perchè perchè... Adesso vado a fare fuoricampo con... Indovina con chi? Indovina che mi portano a fare il fuoricampo con me? Chi sarà? Sarà? Chi sarà? Sarà? Si sta riendo perchè molto siete spaventati La ego di gang non si infama Se la infa mi muori Hello Hello Japanese friend No, che Japanese friend? Marco si starà sposando con il coniglietto Si, ma dove? Jolene, è verda Ha desaparecido in combate Io non ero razzisti Non c'è niente che non sono rinocente E mi sono dorsore Quindi siamo il tuo secondo dish Madness, no? Ho capito, ho capito Ho capito, ho capito Ho capito Ho capito Se hai capito No Omar fuoriclasse Omar fuoriclasse No, 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 no Le reaction si fanno con il gatto Non si fanno con OBS Omar Sono con OBS Guarda, per l'abitudine ormai Come on Enmat Toast Prince Come on Don't make Don't make Your friends wait Kill Enmat Kill Enmat Splat him Enmat Splat If you know what I mean If you know what I mean Don't use Don't use The next room reset The next room reset Will be in Not the next The next The next Ah no After this No After One more with this code And the next will be restarted Hi Che sera sera Buoni Marco sono andato in vacanza You don't be lost to be to be Na 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 Ok Big Nintendo fan Hi Who big you are? Big Nintendo fan Big Sol 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 Wow Nintendo looks like a teenager Right now Oh Sol He's here Oh Sol Nintendo are you happy now? Twiggy Oh Sole Oh Sole Oh Sol Mio You had core Ah So you would appreciate his His songs Cantare la canzone Oh Sol Mio E non so più Cosa dire Stai in fronte a me E mi sto inventando la lettera Ma loro nemmeno lo sanno Stai in fronte a te Quello devi dire ugualmente sennò Oh Kate vai 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 Come on come on Kate Ma che è vero Sono sennò Mi sono disabituata Lost Lost Mio No no Lui sta difendendo tutto lì Di là non passa nessuno Marco sta in fronte a te Che sei Che sei Mio Online Sol è online Mio Are you joining Sol? No Ma non Ma non No Non abbiamo mai detto Ah Sennò Sennò No 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 Non abbiamo mai Un'escrizione 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 C'è veramente Un'escrizione Un'escrizione Se ti piace No Ma non è vero Non abbiamo mai detto Ma non è che 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 Sassi E Matteo Fuori Ma posso fare un'escrizione Non mi chiedo Matteo Oh 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 Sì 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 Oh Sì Tu ricordi Sì Il mio anniversario Dei Sì Cosa Possiamo Ma non è O Si E between you guys che rapido si un blaster? Saretta con un blaster non lo so che far aspettare ehm non nemmeno guardato Saretta Saretta no Saretta scusa si è appena stata fuori da me aiaiai quello è il prezzo che a volte ha che si può aspettare ci dispiace sappiamo che non hai già più tanto da giocare scusami sono vecchio e rincoglionito piccola Saretta da questi sapere ciao sveli grazie per i saluti chi è? chi ha salutato? sveli sveli un abbraccio ci sentiamo domani penso che facciamo una live normale spero Enmad tu sei con il vinto Enmad guardate la posizione prima Doctor second Omar third Enmad non sei il secondo o il primo che è un abbraccio e tu spiace con il dog ma è così 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 è davvero 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 strife ehm prima ehm dopo il stream ho dovuto recordare il video di Minecraft quindi quindi io pooper io pooper io pooper dico insiste oh car and fanta man fanta man tu sei il terrore di tutti i criminali sotto questo sole è bello minchia sotto questo sarà bello pedalare ma c'è da sudare la stana c'è villa a chi piace a gianni morandi italiani a minecraft no e che stavano stare siamo solo lì godi e lì godi che se hanno ma anche la stessa ma che sono soli italiani sempre no 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 grande tos good day ti prego una sola volta quando qualcuno di inglese ti chiede qualcosa di sì sì è facile questa sassi no è cosa è bello non conosce matteo renzi fanta chiede dopo la credo io io credo che ce la fa entrare quante quante richiede come si dice exigenze è l'unica che ha ragione permettiamo permetteremo permettiamo saletta non so più parlare aiutami sono dietro dopo la batteria 22% sono le 22 22 esplodera il mondo perché in switch fire wifi in le altre consolas e dispositivi no perché la switch tiene mucha tecnologia mente nel suo interior e in canse e la algo de baratto antevino che poner io creo che ha imposto il wifi muy baratto e tambien che non tiene una scheda de red non tiene un boom lo scritto o frank per attenzione 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 infamata mi sa vediamo cosa ha scritto io l'ho letto io no si avrò che dico che schifo grazie a te grazie a te facciamo ogni volta più creativo e con i abbastanza schifo unico veramente minchia questo non vuole aspettare le vacanze per il record il record bomba 36 36 per il non non fate schifo io credo che se spero tanto a parte che dobbiamo segnare le donazioni dell'altro giorno che non abbiamo segnato spero tanto che venga bloccata questa immagine che possiamo di culo di di tiboni in poche cosa ciao yuri bye bye all'inizio volevo scrivere bella live di minecraft ma poi ho scelto questo appunto per quella sei entrato chiedendo perchè non giocavamo minecraft che c'è fanta è piena no quando non è riuscito al la prossima o entra 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 provo entrare provo entrare fanta fanta anche l'ora che tal provo entra 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 Molto bene, grazie a Angel. Dream Team. Non è completa. Vero, Frank. Si dà la conferma. Dream Team, cosa? Dice Frank che se Ratti non parla di lui, la sua vita non è completa. Risponde, Ratti, è vero. Un po' di perissia. Un po' di perissia sia, un po' di perissia sia, un po' di perissia sia. Dile a tuo amico di parte mia che hai ragione. Si te lo posso dire così. Ovviamente, quanto più esperienza, meglio giochi. Però non significa che... Non mi compare, è un livello 1 con una estrellita, perché se mi compare sia un livello 10 con un 90, e poi mi fa parlare a trascosto. Ragazzi, vi dico cosa mi manca. Minecraft... A Frank vogliono qua. Minecraft... Minecraft... Ah, una cosa di quelle, vedi? Epile sia sia. Economy. Doc, ma chi non lo mi risponde? Doc, contatto cinese per la bambola di Frank. Come non capisci l'inglese molto bene? Chi è? Non è l'Inglaterra. Mi sono persa. Ok. Kate, stanno parlando di te, dicono che in pratica che il Dream Team sarebbe, se tu saresti con loro, sarebbe chi? Esattamente, mi sarebbe che dice toast. Si. Toastino. Doc, alla fine come sta il tuo amico? Eh, ne parliamo in privato, comunque. Perché spettatore? Sassi? Perché era l'ultimo entrato. Perché eri l'ultimo, Sassi, che sei entrato. Oh, è mad. No, Sol, Sol, grande Sol. Grande. So, wow, questo sta molto vicino all'inizio. E' veramente... Tu sei l'equipo di? En me? Oh, wow. No, no, l'eche parete. Oh, Dio. Are vi è data? Come è vietata? Non l'abbiamo visto mai questo. Oh, le. Questo si deve recuperare una partita. Ehm, da parte da Fanta, la versione per PC... No, no. So, distretto. Ma, è mad. Che la versione per PC ha molti più blocchi, oggetti, crafting, animal, orsi polari, pesci rossi e mostri, phantom, charged creepers... Va bene. Non dico di giocarci, ma di provarlo. Ma non ha un PC che va... Non penso è... No, voglia, voglia che lo tiene Minecraft. Tengo Fortnite! No, certo che lo tiene, ma nel senso lo usi tanto che non potresti neanche giocare allo stesso tempo di magari streamare o fare cose così. Chiaro che non posso streamare e giocare al computer allo stesso momento, secondo me. Sai cosa succede? Che sicuramente li verrebbe così voglia che anche quella per Switch fosse così, che sarebbe triste. No, io ho la Switch, cioè ho Minecraft per Switch, mi va benissimo. Sì, sì. Mi hanno sempre insegnato di accontentarsi delle cose che hai, perché tanto se già ce l'hai vuol dire che è un bene. Ma in più se possono comprare anche le espansioni, queste cose che ti danno altri blocchi, no? Certo. Quale lingue does Carl speak? He speaks Spanish, Emma, but if you want I can translate everything you want. I think he understands a bit of English. A bit. Giuro se mi fai la stessa cosa di Sara, io giuro che vengo in Spagna e ti butto giù da un falcone da Switch. Non abbiamo un falcone. Ma chi è? Sassi. Sassi, non puoi essere adesso spettatore di nuovo. Vuole essere spettatore di nuovo, Sassi? Basta che me lo dice, eh? Io ci metto poco, se vuole guardare ancora un pochettino. Spera così, cazzo, che sono un mese. No, ho sparato sotto, cazzo. Cazzo, poi sul pagin. Prange! Sto parlando dello stesso PC che stava per esplodere. Sì, Ratti, quel PC. Stava per esplodere già la seconda volta che stava per esplodere, non è che era. Sì. facile. Minchia, abbiamo perso la fila. Ok, Toast. Also Toast is going to leave soon. Fanta, adesso Fanta se ne sta andando gente. La ultima partita per due persone, quindi può essere... Ce la fai. Ma baffa a culo, va. E io sono ok. No, guarda sul mio PC, Forna gira bene eh. Solo che non dimenticarti mai che tante volte io cosa faccio? Devo vedere i video, devo fare questo, faccio le live, mi dimentico di spegnere il computer, sta acceso 5 giorni, una settimana, 10 giorni, quello è il problema. E io è Omar. E io è Omar. You kill him. Tu e Omar. Sì. Dock domani ho il compito in classe spagnola, non ho studiato in inglese. È Fanta. Non ti posso dire niente. Non ti posso dire niente. Studia. Adesso. Incrocia le dita. No, è tantissimo vuol studiare. Leggitelo con... convinto che sei spagnolo in quel momento. Ragazzi tranquilli, tanto dobbiamo rifare la... dobbiamo rifare la room, adesso. Appena finisce. Guys, will you start the lobby in one match, in this match. This match. Stai portando il... come si dice? Il primo uniforme? Si dice? Come si chiama uniforme in italiano? Uniforme? Il primo uniforme degli Igoli. Noi... Cresce tipo... dopo 10 giorni. Unum? 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 Ehm? Unum? Unum? Muoso? È come... Come si dico? Unum? 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 Equivio? Unum? non che finisci come lui ma studia guardati qualche video youtube che ti spiega giusto quella lezione a volte serve dai dai vedo se riesco a farla vedo se riesco a farla tutta lì oooch che veloce veloce buonissimo surprise un caro un nuovo caro dai ragazzi uuuh can you think white change ah no che tiene varios che print non lo so oh è sopra la che non l'avevo visto ostia e solito eh ademas oh la mia mira ese disparo di prima al principio preferisco andare a scuola senza sapere un nuovo nome Lucky Charm che è Lucky Charm? Fortuna Charm? ah Charm è calmo? credo si pensavo che Charm era come un canto tomo lo saiki japonese ti hanno fatto visitamente costruivi con Frank si si che ricuerdas il papiro tambien me odiaste oh my god madness this time google translate trolled you so much this doesn't have any 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 sense at all oh 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 so mi ha salvato scusa eh mi ha salvato altre verifiche di matematica ma la terza niente eh eh flat zones eh molto oh 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 ellos hacen tornamientos que hay que juntos sabes ah it doesn't work so well sometimes the trick with their translator is to write as correctly as possible in your own language eh ah 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 eh Doc ah do ah ah doc no 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 un metro ma dai madonnina santa ah out Ah Spiroce mento poco come cazzo fa dormire con tutto il casino che faccio io non lo so madre mia madre mi ha indossato qui che sarebbe da io no 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 sarà sarà si vede che tanto che non gioco sì tempo tempo cosa a me hanno segnato che niente ti da tempo mamma mia saletta quattro volte ha esplattato una dietro l'altra si è saletta da la bestia dog needs to i don't i don't get that cosa scrive fatal a me costa entender otros idiomas a ratos quando non scrive come tocca ah one vs one torament credo che è turna ment no ma hai vedi anni che vuoi ma hai vedi anni che vuoi sì 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 ma non perdere mai la speranza never lose faith ciao sariettina sì anche da me buonanotte un abbraccio a presto assassi 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 anche se ne va ciao assassino ciao assassino caramaco 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 maco al 11 meno 20 come va maco 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 man i let the b a maco man sempre ti nominamo perché ci manchi manchi solo a jessica anche se non vieni sto bene ma com'è mai come marco ma come me man na 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 ma è lenox welcome to you ma come man non è l'imbarcanza con bone ma non è l'imbarcanza? nooo se è pieno la switch giù dal valcone chi è quella? cosa va? eh? non lo so è anche molto divertito bene ragazzi se qualcuno di voi ha quel nome pregato di toglierlo gentilmente se no se non siamo noi vi chiedo il favore quindi togliere il nome please lo intenderai? ok riproviamo Amanda hola hola Amanda no penso non so non so una sensazione chiunque sia verrà bloccato in questo momento se io reggo il nome del clan associato a una cosa che non deve essere associata in un canale dove come? come? ah si aveva detto quello bene va va vai a un canale questa persona basta che che hanno? no, no no, sì por fin sta in directo quando io posso molto bene, Amanda te unis? ah, sì, già si salò qualcuno allora adesso quello che ho tolto mi fa il favore di uscire e cambiare il nome perché se no io gli do tempo al prossimo match avrò un amico in meno e uno spazio in più per qualcuno è sicuro che ti capisci in italiano? chiaro vabbè sì quindi handicap match parca zia no, Amanda parlo spagnolo tutti i giorni e non voglio che il nome del nostro clan sia associato a una cosa del genere tu sei fantastico tomate le mani allora in questo handicap match abbiamo Kate Prince Toast and Frank Contra Sol Carl e Amanda Amanda se ripara subito subito in base perché perché già ho visto mille di cogetti che è molto vicino Carl con su dual sta mirala 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 come non juega bene sì mira però tenia tenia tost vabbè non è che tenia boh e Prince distrugge Amanda Sol Sol Sniper Sol is really really concentrated to kill Prince but Prince Splat Carl e Amanda in supporto laterale Amanda Splatatoast Splatatoast perfetto Frank avanza a ricolorare la superficie viola Carl tra una pirouette e la otra Iva Iva uh 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 c'è uno scontro lucidante Sol vs Toast Prince e va di nuovo Carl recupera terreno vai Carl vai Carl vai Carl no Carl grande Kate ma in frattempo Toast e Prince continuano a distruggere Sol in una maniera strepitosa chiusi in base chiusi in base ragazzi l'handicap match si fa sentire sono tutti chiusi in base eh no eh no grande Carl grande Carl unico di non indietreggia mai Carl unico di che nunca nunca huye nunca se va a traslare no però mira sta facendo lo speed party perché io sto demasiado grande grande Amanda grande Amanda questa se llama tecnica tecnica anda a recuperare chi è parata senza scrittbuck è perdita grande Carl tira per lante tira per lante tutto viola tutto viola tutto viola che sta evitando che che lo sta evitando è che che no Kate ah Kate è che le ha detto chi è Kate sorry si handicap match but really really good match yeah and grande Carla Amanda boom bad game guys there was a crash ma Carla è maschio chiaro che Carla è maschio Carla chi è? l'ultimo in due Kate Kate grazie Calamaco per la tua come si dice pragmaticità per essere così pragmatico poi divertido sì calmi sì sì pinta a ver che sale in la rueda Amanda a ver che sale no no crambles come odio è colore azul chi si va con Doc si è bloccata la live fanta no fanta sei dentro ci sei dentro fino al collo fanta ci sei dentro fino al collo a chi da mi è noi Samantha tranquilla che è maschio male non ti preoccupi sta in tuo caso nadie te va a jodicare questo sì no però tranquilla che sera tranquilla tranquilla franck avanti franck sol sol press sol la mi fa sol rami do la sol la fada ora sei un rabbit oh what che Andrea tu sei un coniglionero un coniglietto tuccioso ma veramente bellino bello toast is gonna play story mode are you leaving toast? Siobino? Eh? No. Però era bello Siobino eh? Si. Siobino! Troppo Pucci. Ouch! Che vacanza! Mamma mia. Come ti piaccio. Ma perché non ti sei messo spettatore? Quella fa vedere la fessa, no? In live. 20 persone online. E ha 6.000 spettatori, no? Una persona che sta giocando. Guarda. Ciao Kate. Buonanotte. Cos'è? Se ne va. Oh yeah Kate. Buona buonanotte. Poi spiegami il messaggio per favore del commento perché io a volte ti ripeto, mi dispiace, non capisco cosa mi dici. il vorrei ma non posto. Vorrei ma non posto. Vorrei ma non posto. Vorrei ma non posto. Vediamo di te. Oh. Shhh. Double splat. Sì. No te, Katina. Katina. A presto. Ah, è buon volo. Ma quando parte? Ho capito. Domani. Non so eh. Si è domani, buon volo. No. Buon. 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 Hai visto? No. No. Ah, non so perché non l'ho aperto. Perché mi dava come tracciato. No. Sei pazzo. New lobby. New lobby. New lobby. New bobby. Ho capito? Lei è lì con questo nappone che potrebbe raccogliere per averterlo l'immondizio senza chinarsi. No. E' sempre sto linguaggio perché non so perché è più... Shibberpuff. Non capisco. Imposta codice 0 0 0 1. Sì. Perché mi devi uscire fortnite. Perché sono deficienti. Io devo soffiare nel gioio. Aiii. Ho fatto un po' di cacca. Mi ho fatto proprio tanto. E quindi, quindi, quindi. Quando, quando, quando. Guardi, ma che bello, le disconnessi, tu tranchi Amanda, gli tira palante, ui fanta, è dolcina, rain maker, rain maker, rain maker, ha toccato il petto rato Amanda, dai ragazzi dai 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 stumpa pumpa parapumpa carnisso avventura tecnologica io ti bibbia tutti perché non funziona più bibidi bo di bibbo siamo solo 8? solo 8? solo 8? 19 persone quanti siamo? 8? quello no vabbè io sento molte volte come tu, ma tu tranquilla, io lo che faccio è provare estrategie diverse se vedo che non mi piace una cosa, ho provare altre, o armi differenti, tu vai provando, mujer Marco, dovresti vedere come siamo andati avanti con i lavori stasera adesso appena finiamo qui facciamo il video, hai capito? perciò domani mattina quando ti alzi troverai il video puccioso per vedere l'evoluzione dell'Igody City l'evoluzione dell'evoluzione dell'Igody L'ugodio in inglese no? sono l'evoluzione dell'evoluzione 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 adesso sono due giorni in due giorni. sono già stavano i nostri maure aziende stavano Siamo postati in un video futuro. Nel video futuro futuro. Nel futuro futuro. Nel futuro futuro. Quindi, se siete interessati, guardate. Restate fresco. Restate fresco in Minecraft. Molto tempo. Casino del Coronel, restate fresco. Si. Ci sono molto del bel arte anche. Bobo. Nori. Marina. Pinturicchi. Come si chiama dal primo? Faggianelli. Abbiamo fatto pure l'art attack dei faggianelli. E' un cazzo. No, 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 no. Disesperazione? Disesperazione match. E comunque non si può parlare tanto in plurale, perché poi alla fine è sempre una persona che le fa, eh. Le grande statue. Si. Sì. Una persona non presente. Dica duca. Eh? Dica duca. Dica duca. Solo per te, Frank. Dio di nuovo. Dica duca. Dica duca. Quella che mi sembra che ha fatto meglio quella di Nori. Dica duca. 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 non puoi aggiungere e da quanto è la live? per adesso di un'ora e un quarto si io vorrei farla un'ora e mezza no, non di più si, è vero, eh Franca ha ragione, Mako cosa? che non è semplice è semplice fare quello che può fare qualsiasi no, che è una cosa quadrata no, è semplice no, ma se la vuoi fare bene si, ma ti devi concentrare si, ma non è difficile, è bello non è difficile, i Lego, ragazzi è come giocare i Lego, uguale è difficile una parola generica è un gioco che precisa una voglia di creare perché se no non ha senso col gioco per me ciao numero uno il codice è nelle patatine patatine, ciao in fondo a destra il codice zio ah, ok ok ah, now I understand Jay, vale il de antes era Jay Dean so he want to change his account ok, I responded yes, yes, of course you can you can join I was like ok, the person said if you could join and he went away bella now everything's clearer you're Jay Dean Jay Dean, no? you're casciato in continuazione all in fanta, ma la man fanta, magari è segno di che dovresti andare a studiare mamma mia che palle che sei ma stai zitta ma è vero epilessia epilessia sia epilessia sia epilessia sia epilessia epilessia grande coccino sì, non so se è divertente però è bello e fanta exige una pixel art sì, sì allora, il codice è molto semplice Amanda, piano piano poco a poco qui sto sicuro che vas a migliorare la forma di giocare se te passa sì perché ci sono buoni buoni giudatori quindi dopo un tempo ti acostumbrano a giocare bene sì è vero e ora è una una notte un pochino tardi per la tarda sì più tardi sì di quello normale o di quello che che ci piace però è una notte che ci piace però è una notte però è una notte però è una notte perchè non puoi entrare? perchè non puoi entrare? qual è il codice reale? il codice reale il codice reale è nella descrizione non è che vanno a dormire ma... un secondo... non sei Jaydeen una persona che già conosciamo sorry non ti preoccupi svitrin, mi corre un lato che nada domani non si va a scuola il codice reale non funziona perchè? ti ne so? è una lista completa? un secondo Jaydeen è il momento in cui i calamachi vanno a dormire oh machino dai ci vediamo presto aspettiamo su spadun o su minecraft anche meglio oh Marco domani vedrai com'è andato avanti l'Igo di World CD World non sei una super handicap match no ah spero tutto è solo legato no Vittorino non mi piace insegnare la cara è una cosa che non doi la priorità perchè non mi interessa sapere la cara di nadie sei solo un gamer io qui non sei un personaggio pubblico buonanotte a tutti buonanotte a tutti a domani aspettare il paziente di video di minecraft e ovviamente cercare di comprare il gioco il più presto possibile oh grazie Marco come sempre buonanotte ah ora si a ver jadeen ah non è jadeen penso che è un'altra persona so welcome no no faccio un video facciamo un video a breve si si a breve tra 10 minuti più o meno voglio finire il giorno live perchè voglio portare il contenuto all'inizio all'inizio sicuro che è un po' di creativa ancora continua si si in parallelo potrei poterti iniziare con stupido diota ottimo mio inizia a fare freddo chiude youtube ok grazie per la info ciao Maki io voglio capire questo siamo in 6 va male il server oggi ops ah si ok sono tu sulle ferite mira Amanda si è bloccato ora la mismo io non puoi da sernata questa è splatoon oggi in me è questo è super super male il fronte sono dei hacker è tutto di hacker hacker ok Victorino no che è mia conexione Victorino ho 300 meg effettivi e ogni che 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 inizio un directo lo voglio lo voglio lo voglio ciao ciao franche buona notte ojalá fuese mi conexione se se non se non se 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 non se se qui è qui qui progresso può 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 una persona entra per è è può 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 sia è non lo sappiamo ci apperano eh perché vediamo un po' le migliori Carl, Panta, Giuri, Frank, Amanda, Alessandro, Sol e Jadin già Carl, lo sapevamo Jadin dice che è l'ultimo entrato come sei l'ultima persona per entrare dovrai aspettare nella prima ronda ma nella seconda giocherà spero che ti piace grazie i server vanno male infatti anche a me dice che alcune persone non sono online quando lo sono invece numero uno, capita a volte ci sono i giorni sempre strani non, non, Amanda, tu practica, practica non ti scaques hombre, Carl, si se presuppone che se vanno a pagare è per che esse dinero lo usano per fare i servitori no? se supone a ver, non gli interessa perdere clienti, no? non credo che abbiano non credo che abbiano se sicuro quando tendremo servitori non va a essere perfetto a ver, un errore sempre può passare però no, ma... se supone che di 10 volte se è di pago io spero che 9 funzioni non funzioni sabes? non ho cambiato la... 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 la perk è... quando accade qualcosa di interessante tipo doc che fa una 4 kg cosa... cosa si riferisce? ok la carcel di Minecraft è la carcel di los buffus bella non lo abbiamo chiamato ne pensato così la verità Victorin, hai che verla hai che verla è un... è un... è preziosa... ingegneria... wow non so come chiamarla che más? ti invitamos a usarla solo per curiosiare perché puoi dire essere... intrattenida ultimamente i voti della like dove non riesci ad entrare in stanza è... tonta e quando riesci ad entrare a volte no bufu carcel si bufu carcel si bufu carcel e non so anche è sempre a quest'ora mi sa che quando anche mondialmente quando più... più gente c'è chiaro si ho moltissima gente arrivano gli americani si 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 e questo si nota che guapo e che? il amarillo e il bufu carcel ma Victorin hai tu Minecraft? è verrà non me l'ha preguntato no oh no 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 non ho accertato con la punteria i'm a charger i mean really do we have to be afraid? Jaideen e we 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 aren't well we don't use chargers so often not to say never no ha we appreciate them in the team obviously no lo tengo, non se la verdad que hacer, tengo mas ideas pero mira Victorin y luego te subiremo il video de los progresos del segundo dia de Minecraft, entonces así te haces una idea te haces una idea echan un ojo y a mi, a ver, sinceramente siempre he tenido prejuicios a nivel estético, no? porque lo vi así como, no se como que no me llamaba la atencion pero ahora que lo he visto, si he entendido los elementos que tiene, porque el linea va, no? digamos, como que me esta gustando bastante, que cubo va, no? fíjate en los objetos que hay, son super raros no se es muy chulo en verdad y todo lo que puedes hacer no! a lo mejor me lo compro solo para jugar con vosotros mira Victorin serías como, no se el quinto dime que no es la oportunidad de que te lo han regalado si, obviamente nosotros ya te digo, como teniamos ese prejuicio nunca habiamos pensado en jugar ni siquiera comprar Minecraft por lo que nos lo hemos comprado gracias a que hemos recibido una donacion de una persona que justamente queria jugar con nosotros a Minecraft así que así estamos así que así estamos no, 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 Jadine, no te preocupes no, 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 no no existe nadie presente pero en nuestra comunidad también hay muy fuertes chaleos, llamamos chalos pero chalos, sí sol y sol, ah, sol es aquí sí, es cierto sol e quindi magari se vieni di nuovo tu hai l'opportunità di metterli e giocare insieme al sniping sì, ma il sole è qui, sì, è vero e Vicenti non usa la lua grande sì sì no se vuoi fare un castillo real che castillo real il reale non è uno dei rei reale che stile ha toccato spin the wheel wheel the spin it works wheel the spin, sì ok ok eeeh qui andiamo a fare il video, Franca? o no? no 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 fai che manda, fai che manda dalle caia mira, a me si es bongo con que aquí si que puedes cambiar mucho de estrategia a mi sinceramente como no se acertar las las cosas estas las almejas o me matan antes de que pueda recolectar lo suficientes me limito casi siempre a proteger mi base che che tambien è molto utile se un castillo reale seguirei los reyes espero che non se refiera a un castillo di arena por la cosa sì sì è vero no hombre se refiera al real creo a ver ricordate un giro chicos este il canale che mola tenes che accordarlo alla persona che juegan no 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 Amanda para nada no es verdad yo sé que solo me quieren ver perder vamos a ver no hombre no vamos a ver perder Amanda oh rati ratino buonanotte ci vediamo domani sicuramente esperato un fan hola 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 claro que tenemos tenemo minecraft ora mismo nos han regalato il minecraft entonces podemos jugare a minecraft ora también de mi sta duncan victorino ojalá así voy a hacer todo da cero y me gusta me empieza da cero si si le gusta te digo y ahora mismo tengo más que 100 personas en el servidores entonces el día de mañana si pasa algo 100 personas aquí siempre la tendré para jugar yo como te dice no soy un youtuber entonces youtube conmigo puede ser lo que quiere que yo haré lo mismo ah pero la SB ha dicho que lo ha visto ha visto ya el el video de la presentación de il de si 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 ahora tiene que ver la hemos hecho un hotel y hemos hecho como 5 10 habitaciones hemos hecho bastante cosas nuevas me gusta un montón como un juego me gusta un montón minecraft se nota se nota por como rápido avanza todo claro parece que todo proyectado sabes doc te recuerdas el viernes que estábamos jugando a minecraft pues ese que estaba contigo era un bully no sé quién como se llama la excusa Luigia es Juanca eres Juanca si esperado Juan 101 Juan si Juan o Juanca Juan Juan Juanca no me la acuerdo creo que es Juan es muy cogedor ya verás Juanca Juanca tu me lo dijiste ¿cuánto tiempo? pero yo no me acordaba ahora mismo ¿cuánto tiempo Juanca? a veces me acuerdo de haberlo visto en un juego Juanca esta fortaleza es de los higotis entonces son muy bully en esto ahora hemos hecho el cárcel un cárcel que no tiene idea sabes como anunciar tu ciudad hemos hecho una cárcel que no veas si si bueno espero que si veáis igualmente Victorín un abrazo Victorín nosotros también vamos a cerrar el directo si en breve breve el propio tiempo así que a ver ya nos contarás si te decides por o en contra de minecraft si venga buenas noches ahí va Amanda que no va ni tan mal no sé por qué se piensa que va tan mal saluda así así se me cuidado 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 eh no Frank no no le gusta Frank se ha aprovechado de esa situación Amanda chicos estamos llegando cerca cerca del final del stream guys estamos llegando lentamente pero al final del stream si si porque tenemos que grabar el video de minecraft si entonces necesitamos tiempo 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 para matarlo ¿como es data? que ha vinto alzando de minecraft amanda un abrazo a todos chicos el directo va a terminar aquí porque tenemos que hacer un video para hacer ver lo progreso de minecraft entonces chicos vamos a grabar un video corto para mostrar todos los suscríbete el progreso en minecraft entonces nos vemos mañana con un horario normal horario normal mañana mañana un directo normal claro que sí claro que sí ya ya son luna for sure I will oh no wait I will acced to friends request bubu 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 welcome bubu bubu hola bubu oh mio dio 1800 1800 ore I love you ninfa I love you you don't have a real life 630 ore di zelda io allora questa persona merita these people proprio merita oh mio dio come si chiamava offline oh no no madonna fammi da uno secondo allora sono 2004 2005 2006 2007 2008 po po 3000 3000 ore ragazzi 3000 io ti metto già 3000 hours of playing wow I put in my favorite player fatta andiamo andiamo a salutare qui c'è qua qui c'è qua questo è Sol sì Sol si riconosce supto Sol what are you doing here you're all alone you look like the bodyguard of the square here 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 you have your daily visit to the Inklings oh no he's pushing you look Sol you're in danger really oh god oh my god he's gonna make a glitch or something sì sì l'ho visto sono sbagliato a fanta questo oh Sol you move really strangely si può livello 4 con 2 stelle sì no 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 come on Sol you can do it no no hai copiato il mio glitchy twitter sì sì vabbè è difficile da fare questo è Frank questo è Frank con Amanda Amanda guarda che sarete lì dietro eh se non se non sbaglio ah no Sarete era vestita da 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 te chi è Fanta ma come sei vestito Fanta se mi Sarete Sarete lo so lo so lo so Fanta scusa ma ti giuro che per un attimo lo devo stare no chi c'è più che è eh Sol l'ho messo in una posizione dove è Sol ti pone tre spuntos no he's only trying to do the glitch I wouldn't but now he notice he put you with the back to all the people and he don't like it doesn't like it here's a selfie gibberish Hi Zeb about to close the stream Oh Zeb and we're after gonna be recording the video about the progress in Minecraft So guys thank you so much to play with us we see tomorrow I don't know why I have opened the Nintendo eShop maybe I'm crazy No we're not bullying him sorry at least we were not meanting Glitch we we we're trying to do a glitch we saw and he was the closest person you close the person here and you push by until here until here and the people fall down disappear disappear no go down go down the stream is about to close Zeb maybe he notices it so guys thank you so much ciao ragazzi just a big hug for you chicos un abbraccio a tutti un abbraccio ragazzi frank ci sentiamo dove già sai fantastico bye 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 Zeb see you later ciao ciao si bye 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 Grazie.